109 alberi all'Istituto Tecnico Fedi Fermi di Viale Adua a Pistoia. Con la messa a dimora delle prime 10 piante, prende il via l'iniziativa Life Terra, con un rapporto di collaborazione tra Provincia di Pistoia, Fondazione Caripit e Vannucci Piante. La piantumazione proseguirà a ottobre, con le altre 90 piante autoctone donate da Lega Ambiente e che andranno a restituire un'immagine di cura e tutela ambientale in uno spazio importante della città. Verranno messe a dimora 100 piante, queste sono i primi 10. Premetto che queste piante sono tutte autoctone, c'è una lista regionale per cui si possono mettere a dimora delle piante invece che altre e questo è già una cosa importante. Quello che vogliamo soprattutto è coinvolgere i ragazzi che sono all'interno dell'Istituto perché già hanno fatto degli studi sulla diminuzione della CO2 facendo un corso alla GEA. Questo progetto durerà fino al 2025, qui verranno costruite delle altre aule per gli istituti e questo può essere un presidio del territorio che invita a tener conto anche dell'ambiente circostante. Il nostro contributo è finalizzato alla manutenzione degli alberi con l'impianto di irrigazione e è un contributo complessivo di 15.000 euro e coprirà questi interventi per il prossimo triennio. Lega Ambiente ha un progetto che sta condividendo anche insieme a noi per un centinaio di alberature quindi stamattina c'è simbolicamente le prime 10 però poi dopo prevederà l'area un rimboschimento molto più importante e che possa restituire anche a questa zona di Pistoia un bel polmone verde dove fare tutto quello che si fa di solito nei giardini pubblici. In quest'area c'è anche bisogno di una riqualificazione a verde. Questo progetto ci aiuta sicuramente in quella direzione e dà un messaggio positivo agli studenti nel senso che bisognerà cominciare a pensare a ornare le nostre città con un paesaggio a verde un po' più robusto rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a qui.